Una giornata di responsabilità e in cui in allegria va il dovere civico, lo facciamo. Se voi ci riflettete, questa idea del lodo Alfano è criminale sul piano dei risultati, non tanto e non solo per quel che succede oggi, ma per quel che può succedere un domani, perché questa legge lui se lo sarà fatto per lui, ma vale pure per i prossimi. Il 25 saremo anche noi, insieme al Partito Democratico, a manifestare. Prima di tutto perché gli vogliamo ricordare che le manifestazioni si fanno contro il governo. E secondo perché lo vogliamo rassicurare, in un momento così delicato dell'economia, una manifestazione di questo genere può aiutare il governo a rendersi conto che non può tirare più tanto la corda, che non può più raccontare balle, che deve affrontare la realtà per quella che questo deve fare l'opposizione. E allora noi ci saremo perché non ci vergogniamo di stare insieme a coloro che con noi si oppongono a questo modo di governare e di rappresentare i cittadini in Parlamento. Noi vogliamo far sapere ai cittadini che se non facciamo adesso questa lotta sul lotto al vano, nei prossimi giorni ci sarà il lotto consolo che, sapete perché? Perché i ministri si sono arrabbiati. Oh, presente al Consiglio sì e noi no. Lo vogliamo pure noi. È già in discussione il lotto consolo.